Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, Roberto Malman dell'autorità di energia elettrica, gas e sistema idrico, Andrea Camanzi, presidente dell'autorità regolazione dei trasporti, grazie a tutti. 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 tanto fare sconti sul traffico per tipi di servizio, per esempio ti do tutti i sistemi di video gratis, ma non posso dire ti do Youtube gratis, questo è l'esempio. Ora in Portogallo stanno rompendo questa regola, per cui stanno dicendo io ti do tutti i servizi di musica gratis o tutti i servizi di messaggistica gratis e fa il nome di tutte le app che fanno parte del sistema della messaggistica, quindi anche in Europa stanno piccolando la letteratura, se dovesse finire la letteratura di tutto quello che noi stiamo dicendo oggi probabilmente dovremmo ridefinirlo un'altra volta. L'ho premesso perché siamo in piena discussione su una delle cose fondamentali sulle quali che costituiscono la premessa delle discussioni. Per adesso siamo in reciprocità e quindi proseguiamo con questa discussione. A valle della presentazione della ricerca c'era però un intervento programmato che avrebbe dovuto essere a valle di Agicom e noi mettiamo adesso che è Ivo Ferrari o il centromarca perché fondamentalmente ci dichiara che tutto quello che stiamo dicendo oggi sulla data economy, sulla social economy non è soltanto una questione come spesso si ripete di preparazione all'atto democratico ma è anche e soprattutto una questione di vita quotidiana economica delle imprese e delle aziende. Le false notizie, la struttura distorta della distribuzione dei dati possono essere un problema per l'insieme delle aziende italiane. Doveva fare una domanda a Agicom, l'Agicom non c'è, viene subito a fare il suo intervento così l'abbiamo fatto e passiamo. Grazie. Grazie Luca, grazie a Consumers Forum e a voi tutte le autorità prendete. Volevamo condividere come industria di marca e come soci fondatori di Consumers Forum due o tre considerazioni su una situazione che consideriamo decisamente grave. Noi viviamo in questo momento in una situazione in cui il falso, non lo fake, chiamavo costruità ma per noi ci sono informazioni false, rischia di diventare uno strumento anche di alterazione dei mercati per esempio e ovviamente di non fornire al consumatore alcuna informazione di corretta. Nelle scorse settimane una importante azienda che si torna il pomodoro è stata oggetto di una operazione incredibile. Un documento di Total Recall del Ministero della Sanità è stato falsificato, è stato inoltrato all'azienda della distribuzione moderna per dare un'indicazione falsa sul Total Recall di un prodotto, di un pomodoro, di un derivato del pomodoro. Capite che il livello, la gravità di una cosa di questo tipo è veramente elevata. Il web da questo punto di vista sta diventando un strumento di amplificazione del falso molto forte e su questo tema noi saremo sempre più presenti e attenti e collaboreremo anche con Consumer Formula sull'autorità su questo tema. Abbiamo però delle criticità grave anche sui media classici. Ci sono delle situazioni in cui vediamo servizi orientati, vediamo in uso a tesi dell'informazione scientifica, c'è una mancanza di contraddittorio oppure il contraddittorio viene costituito in un modo fittizio per far apparire quasi come degli idioti, gli scienziati che non sono allineati con le tesi portate avanti da determinati programmi. C'è una corrente veramente di antiindustrialismo eologico che sembra fuori da incerti. Questo significa tanto l'edituzionale per le aziende, per i marchi, ma anche danno sulla dinamica dei mercati, sullo sviluppo della corretta concorrenza, perché chiaramente se io trasmetto informazioni false sull'intera categoria di prodotti sull'assettamento del mercato, in un settore perfettamente concorrenziale come quello dei beni di consumo, la mano del consumatore si sposta leggeramente su altri prodotti che non sono stati oggetto di calunie. Cosa stiamo facendo noi come centromarca per contrastare questo fenomeno? In assoluto annuncio che noi dal primo di ottobre abbiamo approvato un monitoraggio sistematico di alcuni programmi televisivi di tutte le reti, perché vogliamo, lo stiamo facendo con l'osservatorio di Pavia, perché vogliamo avere il colso un po' della situazione di quello che è l'informazione di prodotto oggi, quindi una fotografia unica che non è mai stata realizzata di quello che è l'informazione di prodotto oggi. Ci servirà per relazionarsi sulla base di quelle che sono impressioni nostre di portatori di interesse sui dati oggettivi e oggettivi sulla comunicazione latente con gli editori e poi autori. Il nostro obiettivo è di coinvolgere l'associazione di consumatori in questa iniziativa, ne ho parlato anche con il presidente Finzi, siamo a disposizione per organizzare dei seminari insieme agli esperti dell'osservatorio di Pavia, in cui possiamo coinvolgere anche i produttori televisivi e gli autori per confrontarci su questi temi della correttezza dell'informazione. Il nostro piano è di visita all'industria di market, in cui partecipano tutte le associazioni dei consumatori, sarà ritarato e copializzato in modo molto forte sul tema delle leggende metropolitane, dei fake che riguardano le categorie delle aziende che andremo a visitare. Lavoreremo in questa direzione anche nel mondo dell'università. Questo è un po' quello che noi stiamo cercando di fare, contiamo molto su Consumers Forum e sull'adesione alle visite a questi progetti, ai seminari per parte delle associazioni dei consumatori e vi fermo qui e auguro tutti buoni a loro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Insomma, era un modo per aggiungere un po' il ragionamento secondo il quale la data social economy non riguarda soltanto le giustizie relative all'educazia ma anche e soprattutto forse la quotidianità della nostra vita economica, i dati, i dati falsi, le notizie false, le notizie che non sono tutta questa decodifica che dobbiamo affrontare. Ora, l'impostazione della ricerca è chiara, tra l'altro la ricerca si trova e si scarica completa sul sito di consumersforum.it quindi la potete ritrovare e ci rifletteremo insieme meglio. Ma intanto cominciamo con i commenti delle autorità, quindi a questo punto vedete si è creata una geometria del dibattito per cui lo Stato e gli operatori sono dei giocatori in campo, le autorità, i consumatori, cittadini si confrontano direttamente e cerchiamo di trovare delle soluzioni, delle standardizzazioni di comportamenti, delle cose che vadano più veloci delle leggi e più pratiche delle leggi. E' un'interessante equazione. La grande autorità dei dati è chiaramente quella della, come si dice in breve, la private, la garanzia, il garante dei dati personali. L'Europa è particolare da questo punto di vista, è considerata il territorio nel quale la garanzia dei dati personali è più garantita, ci sono coloro che dicono troppo garantita per cui frena lo sviluppo di innovazione nella economia dei dati, ci si domanda se debbano essere meglio definiti i confini tra dati personali e dati che non lo sono, ma soprattutto insomma ci si domanda strategicamente i garanti europei che cosa pensano si debba fare, si deve proteggere il dato personale oppure si deve riconquistare, perché ormai è perduto, oppure si reinventa il sistema. Antonello Sorso, grazie. Scusate, interrompo ancora un secondo per dire più o meno ogni intervento ci aspettiamo che sia una decina. Prego. Sì, grazie. Il quesito di quelli che richiede qualche minuto in più, tipo del quattro ore, nel senso che il problema generale... Sacco a pelo, ragazzi. Invece io cercherò molto sinteticamente di dire due cose, partendo dal secondo quesito, tra di personale e non personale, per contare il campo. Il dato non personale, ad esempio quello delle persone giuridiche o quello interamente amministrati e sopra con le tutele, quindi è un falso problema. Il dato non personale è invece quello tutelato. E qui c'è la prima fake per usare questa traduzione che è molto di moda in questi giorni. A me piacerebbe che l'opinione pubblica e il dibattito pubblico è forse gestito di temi dalla società digitale in modo meno sloganistico, diciamo. La prima fake news è quella che è volutamente, provocatoriamente contenuta nel quesito e nella domanda di Luca. e cioè la disciplina delle norme in materia di protezione dei lati personali di Europa sono un ostacolo allo sviluppo dell'economia digitale e questo ha reso l'economia digitale europea più debole rispetto a quello negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, fondamentalmente della Cina. Questa è una falsa notizia. Partirei per dimostrarlo da una cosa invece non discutibile e che cioè l'economia digitale europea è debole e l'economia digitale degli Stati Uniti e della Cina ma ha un ruolo egemonico rispetto al complesso dell'economia digitale che è tutta l'economia. Anche qui ogni tanto siamo inerzialmente portati a fare la distinzione anche quella fra data economy e social economy. No, dentro la dimensione digitale che è la nuova dimensione della vita si svolge l'economia, si svolgono le relazioni sociali, si svolgono tutti i rapporti dell'umanità. Un uomo sempre più largo, sempre più crescendo e quindi in questa dimensione esistono dei soggetti che hanno un potere straordinariamente grande perché non perché c'era in Europa una disciplina molto attenta alla tutela dei clienti, ma perché l'Europa nella sua interezza non solo i governi ma le imprese, le università hanno sottostimato la rivoluzione digitale e intanto che in Cina e negli Stati Uniti si investiva di certo sviluppo orientato verso le nuove tecnologie dal 2 al 3 per cento del gigantesco di questi paesi, in Europa non si faceva, o se non si faceva da parte di pochi stati in misura molto importante ma irrilevante rispetto alla dinamica di un'economia che per soprattutto è globale. In questa dimensione si è selezionato uno stracotere di alcuni soggetti che progressivamente hanno concentrato tutte le varie parti dell'economia dalla finanza alla genomica, dalla sceniche fino a tutti i commerci praticamente, quindi con un potere che è un potere di conoscenza perché l'utilizzo di tutte le informazioni raccolte nel mondo attraverso i loro sistemi sono in grado non solo di conoscere ma anche di profilare ma anche di indirizzare le scelte non solo dei consumatori ma anche dei governi ma anche dei cittadini quindi un potere gigantesco rispetto al quale la dimensione globale si scompre e si confronta con una dimensione frammentata degli stati, degli regolatori che hanno la dimensione nazionale e che hanno frantumato anche molte delle dimensioni di cooperazione che si erano formate negli anni passati. Questo è il dato. Un strapotere dei giganti della rete e un piccolo potere delle dimensioni diciamo delle istituzioni democraticamente legittimate all'esercizio delle loro potere e quindi deboli rispetto a un potere come quello globale dei soggetti. E allora la domanda che sorge è come possiamo contrastare questa dinamica? Dobbiamo ridurre le tutele per i diritti dei cittadini europei? Io penso che no, che non sia giusto ma non solo per un motivo etico perché i dati di cui stiamo discutendo sono la proiezione dentro la dimensione digitale delle nostre persone e quando pensiamo di ridurre le tutele dei dati, dobbiamo sempre pensarci, stiamo dicendo che dobbiamo ridurre le tutele delle nostre persone chi di noi ha voglia di avere le rotte, le proprie libertà? Penso che sia sbagliato anche concettualmente forse questo problema ma c'è anche un motivo di interesse. L'unico modo per contrastare questa dinamica così sperequante che si è creata nel punto di dieci anni è quello di far crescere un sistema di protezione dei dati che abbia un'efficacia e che abbia un riconoscimento universale. Da questo punto di vista l'Europa ha fatto un passaggio straordinariamente importante perché ha tecnico, direi con un grande anticipo rispetto al dibattito pubblico che gli osservano in Italia in questo periodo, perché ogni tanto c'è qualche rappresentante di governo di Parlamento, di impresa, di studio che rivendica che rivendica come ambita una definizione, ad esempio, bisognerebbe disciplinare la portabilità. E questo è un difetto di conoscenza da parte di chi vive in Italia rispetto alla legislatura europea che ha promosso un nuovo regolamento un regolamento che non è, come dire, una vecchia direttiva che poi si vedrà che fine fa, ma un regolamento. Il 25 è la legge che disciplina in Europa, ma non solo per gli europei, ma anche per le imprese che vivono fuori di Europa, ma che operano in Europa, disciplina in modo molto rigoroso, con un sistema sanzionatorio molto forte, la protezione del dato personale. La protezione del dato personale non riguarda solo, come dire, quella scritto etico di tutela delle nostre persone, riguarda gli interessi, perché noi sappiamo che oggi il tema della sicurezza delle imprese è un tema di sicurezza o di insicurezza, per meglio dire, dell'ecosistema digitale. E se noi vogliamo evitare che ci siano le dinamiche, in cui tutti gli stati in questo momento sono, l'Italia è fra i dieci paesi più insicuri da questo punto di vista e nel continuare un sviluppo dei costi tra gli attacchi alle imprese del 23% rispetto all'anno precedente. Quindi una dinamica pazzesca di costi tra le imprese, rispetto alle quali forse sarebbe il caso di non demonizzare la decisione di protezione dei dati, ma anzi di investire per fare sì che le proprie imprese siano più sicure, perché la protezione dei dati è il presupposto della sicurezza digitale. Se non c'è la protezione del dato, che cosa vuol dire la sicurezza dell'ecosistema digitale? Forse che vuol dire la sicurezza di un computer? Di un dispositivo? Non lo so, di un contenitore? No! La sicurezza dell'ecosistema digitale parte dalla sicurezza del dato che viene in qualche modo immesso continuamente è trattato come la protezione digitale. E quindi la protezione del dato diventerà per le imprese il primo fattore di competitività non solo perché ha un interesse a presentarsi rispetto ai propri clienti, ma comunque parte del mondo come più sicuro, ma perché diventerà anche un elemento di credibilità, di affidabilità, questo per le imprese ma ancora di più per le pubbliche amministrazioni. L'idea che il nostro paese voglia investire molto nella sicurezza cibernetica è una bella notizia, ma sarebbe drammatico se si pensasse di investire in una strada sicurezza cibernetica e trascurare la protezione del dato, per la quale il nostro Stato non sta disponendo di risorse umane e finanziarie necessarie, perché c'è una divaricazione tra il dibattito pubblico e quello che invece è la dinamica della nuova economia digitale. Mi fermo, ma vorrei dire che il nuovo regolamento europeo sta facendo scuola. La domanda che faceva Luca è rispetto agli altri paesi del mondo. Per fortuna, dal Giappone, dall'India, all'Australia, al Canada, al Brasile, il nostro nuovo regolamento è il modello al quale si fa riferimento. I giorni scorsi sono stati da noi l'autorità, una delegazione dell'autorità giapponese e sono impegnatissimi di mettersi esattamente nella stessa lunghezza d'onda del regolamento europeo. e quindi c'è un trend di forte impulso a contrastare le deformazioni, le disparità, le asimmetrie che si sono create negli anni passati, investendo sulla protezione del dato che parte a dare la organizzazione e la progettazione dei sistemi, dei vari sistemi, si ha totalmente incorporata la protezione del dato. Cioè il rovescio di quello che abbiamo fatto finora. Non aspettiamo di vedere chi sbaglia e poi correggere, ma facciamo che diventi interessi tutti l'idea che i sistemi da quello della casa intelligente fino a quello della comunicazione tradizionale che deve andare con l'idea di essere impotenti. Proteggere il dato nella dimensione digitale è l'arma che abbiamo per sopravvivere nel nuovo sistema di vita che è cresciuto nella distrazione di tanti che è la dimensione digitale, la società digitale, l'economia digitale rispetto alla quale occorre un nuovo grado di consapevolezza da parte di tutta l'istituzione per rispettarli. Applausi. Interessante il fatto di considerare l'elemento per dare la sicurezza per dare il possesso dell'evento è una cosa da far crescere come consapevolezza. Il problema è capire quanto, diciamo, proprio come consumatori, siamo in grado di apprezzare questo sforzo di investire nei nostri dati in possesso dell'evento. probabilmente già viveremo, ma è un problema interessante. È una cosa da far crescere come consapevolezza. Giusto che loro l'ho citato. Se vi comprate un modem wireless da usare con schedina, occhio, perché ho scoperto che c'hanno sempre una porta aperta con scritto ID e password admin admin. Quindi vi entrano su tutto quello che avete collegato quando state su quel modem fino a che non avete cambiato admin admin, cosa che ti fa facilmente, ma bisogna sapere. non capisco perché tenga perduto file design aperto. Probabilmente, come dice il solito, dovrebbe essere chiuso file design, poi vedete eventualmente in cambio aperto. Ma comunque la struttura dei modem portatili, dei sistemi di telecamere per le case, domotiche, eccetera, è totalmente aperta e la server security è totalmente dimenticata. per l'ultimo dei problemi, rovesciare l'argomento è assolutamente possibile. Io ero a Taiwan quando l'Europa ha deciso di far diventare tutto riciclabile il materiale con il quale sono fatti i compiuti. L'Europa non fa computer, più o meno, ma ha imposto, diciamo, dato che è un grande mercato dal resto del mondo, questa sua regola sana di ecologia strutturale. è chiaro che possiamo avere un'analoga importanza nell'ecologia culturale dei media digitali attraverso queste attività. Se il Giappone, l'Australia e l'India stanno seguendo questa strada, forse siamo sulla strada di vista. Detto questo, è tosta perché mi sembra che la propaganda o comunque l'ideologia dei paesi che invece non hanno dispesi, non si sa che la sensibilità sia molto significativa. Detto questo, non siamo arrivati neanche noi se non all'inizio della questione. Per esempio, tutto il tema della simmetria delle informazioni per la qualità della concorrenza, eccetera, è uno degli argomenti totalmente in discussione. Per l'intervento di Malaman, dell'autorità per l'energia elettrica e il sistema idrico, il suggerimento della domanda è di prendere in considerazione il fatto che adesso arriva questo contatore quello che consente di conoscere le cose sia al consumatore che all'operatore, in qualche maniera riequilibrando la distribuzione delle informazioni. i dati sono a questo punto meglio distribuiti oppure anche in questa occasione così non è... e in ogni caso come ci stiamo confrontando con la gestione dei dati che gli operatori raccontano nella vita quotidiana di utilizzo dell'energia elettrica, dell'acqua, eccetera. Grazie. Grazie. Grazie in 5 secondi agli organizzatori. Non tanto perché l'iniziativa di oggi ha un titolo interessante. Diciamo che con le parole di già scena di economia, di fake news, che stiamo così, che l'avete incontrando tanti, ma se non hanno contenuto, mi viene pubblicati. Oggi, invece, su temi di grandissima rilevanza ci avete dato il contenuto. Il contenuto stimolante anche per chi fa regolazione e controllo delle aziende in un certo settore. Quindi, diciamo, passiamo da tematiche orizzontali, di interesse, diciamo, violento nella vita di tutti, a tematiche settoriali che ci hanno un'interno della loro importanza. Cerco di riprendermi dallo shock di aver sentito la terrificante provocazione che la regolazione ha perso il contatto con il sistema. E, diciamo, e cerco di interpretarla in questi dieci minuti positivamente in termini di come fare con la dottorea a non perdere il contatto con il sistema. Ora, finché il sistema era vent'anni fa che io facevo il bambino regolatore, facciamo come regolatore, facevo il bambino regolatore, fornitori veramente integrati, pochi impianti di produzione, non ci cerchiamo di più se c'è bisogno di consumare e pagare. E' quel mondo lì, per fortuna, non esiste più. Ragioniamo su questa novità anche di aziende che abbiamo ascoltato. Al rinno dei contatori seconda generazione, nell'alto di alcuni anni, in Italia, prima il mondo adottarsi di una sua struttura e decine di milioni di contatori sere gestiti, ma ormai di vecchia generazione. E' il sistema più ampio al mondo, ma nel più migliore, perché è stato concettito il 17 anni fa. Adesso fa il salto. Lo fa a regole e costi controllati dall'autorità d'energia. Ecco, francamente, 17 anni fa, la cosa era talmente nuova che il regolatore si risponde. Quindi, al mondo, il regolatore regolatore era andato per fare prima altre cose, ma il regolatore ha preso la partita dei contatori prima della generazione dei gestiti e ha cercato di gestirla, ma è arrivato dopo. Questa volta siamo anche all'origine della questione. Cosa succede? Succede che non arriva semplicità. Arrivano opportunità. Poi torniamo sulla semplicità, però prima partita riporto in tela, perché, insomma, le volette in un mondo normale perché i gestiti devono essere esattamente legati ai costumi, in un po' anche in un mondo d'Europa, diciamo che ci sono stati problemi di divergenza da questa sala regola, che non è lontano da questa scrivania, però un sistema di gestione deve garantire, le fatture che ti fanno pagare esattamente quanti consumatori dovrebbero prendere. ma in questo è lì. Lo facevano tendenzialmente anche per l'ultima generazione. Quelle seconda generazione danno due cose, molti più dati e molta più disponibilità di questi dati, scusate, tre, molti più dati e molta più disponibilità di questi dati, subito, anche al consumatore finale, e molta più capacità di interconnessione. Il primo sistema si andava per onde convogliate al concentratore, poi usava la tecnologia CTRS, se non sbaglio, ma che è nata insomma per una parte limitata di dati e questo è diventato il vero pollo del sistema. Ce ne siamo accorti dopo. In quel momento forse potevano nascere solo così. Allora, queste tre opportunità, più dati, più intelligenza e più comunicazione, l'intelligenza nel senso di disponibilità immediata e più finale, ci lanciano una situazione. Ci saranno dati quattro anni, anzi, la giro l'alto noto. C'è un paese nel nord Europa dove un terzo dei clienti finali hanno un prezzo, scelgono un prezzo così fatto. il prezzo del mercato all'incrosso dell'energia più una remunerazione per il mio vendito. Questo paese si chiama Finlandia e è come contrarre un mutuo. Non è più complicato come contrarre un mutuo a tasso variabile. Un mutuo a tasso variabile fa tre anni, e potrà anche magari il 17% di interessi ambienti. Per fortuna ci sono studenti di difesa. Allora, un terzo dei clienti da Finlandia hanno scelto come contrarre intelligente di pagare il prezzo sport di quell'ora dell'energia più un backup del loro venditore. Il loro venditore, che lo deve dare più basso, lo scrive naturalmente. Studi di no, perché così, se ci mettono tanta intelligenza da parte del consumatore finale, lega i loro consumi a qual va il prezzo dell'energia. E non è che si devono impegnare lì a guardare. La sera prima sono noti i prezzi orari dell'energia il giorno dopo. Tutti devono passare la serata a studiarsi per decidere a chi può asciugarsi i capelli. Per fortuna no. Hanno un piccolo device a valle del contatore che però gli gestisce il consumo di riscaldamento di riscaldamento. Noi non ci arriveremo. Però, per esempio, il numero di riscaldamento è un piccolo device che su cui dice la sera io domani torno a casa alle 18 ore e la casa calda è sulla base dei profili di costo del giorno dopo che gestisce il riscaldamento. Questa cosa fa risparmiare non fino a ma fa risparmiare il 10-15% dei costi di riscaldamento in prese. Noi non ci arriveremo. Però, per esempio, avremo queste forme di prezzi. Complicate? Per barco, sì. Però per chi se lo scelte? Allora, qual è il compito del regolatore? Il compito del regolatore è farmi maturare l'innovazione tecnologica senza frenarla cioè evitare di fare troppe regole prima però fare regole per chi ha bisogno di essere integrato lasciando che si dispieghi l'innovazione degli altri. Questa è la mia sfida come regolatore. se riusciamo a vincere ma non avremmo perso il contatto con il sistema che dovranno essere illuminati. Quindi, più tutela perché vuole soluzioni semplici. E più libertà perché in grado di gestire soluzioni complesse. È alla fine il destino del Paese di mille cose. i dati sanitari di mia mamma, per fortuna, diciamo, stanno residenti da una parte ma sono il maggiorino del pianeta e i miei dati sanitari viaggiano dappertutto perché io ho ammesso che viaggiano dappertutto non si succedono tutelati per quanto costruire. Io faccio acquisto online e mia mamma va al supermercato eccetera eccetera. Nel campo dell'energia sta succedendo questo. Soluzioni tutelate per chi ne ha bisogno anche in un regime che sta cambiando e si va verso il superamento dei prezzi di tutela. Questa è l'unica cosa che direi poi ci dirai con il rapporto in un altro spazietto. Cioè, l'assuperamento dei prezzi di tutela comunque aumenta la complessità per tutti. Poi, chi vuole, sceglie soluzioni più complesse che danno una grande opportunità. Però aumenta la complessità per tutti. Qui emergono i compiti ma diciamo quei tradizionali per tutti. L'autorità per energia ha deciso d'attivo gennaio dell'anno prossimo per chi vuole soluzioni semplici sanno le cosiddette offerte in plage in più di noi non vi facciamo ma così schiavano al momento. Offerte in plage, mi vorrò dire, che per innamorata, che già non è tanto contenta di scegliere ma se ne fa la ragione perché si sceglie anche il produttore dei servizi di comunicazione, potrà scegliere delle offerte tutte uguali dal punto di vista contrattuale, solo energy e che saranno fisse o variabili e saranno offerte da tutti i venditori sul mercato. Perché? Perché chi vuole scegliersi solo un'offerta in base al prezzo cosa sceglie? se la metto, 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 se la metto. Io vorro scegliere servizi di efficienza energetica, un'assicurazione a un prezzo particolare, un prezzo orario, che ha usato il produttore per il gestito, potrò farlo, e chi non vorrà avrà delle offerte standardizzate. ultimissima davvero cosa, alcune sfide davvero non ce le facciamo da soli, è vero, io vi dico almeno un modo in cui ci stiamo ponendo la questione con rapporti di collaborazione permanente con le altre proprietà sorelle non sono i protocolli d'intesa che fanno, diciamo, le richiede ai contenuti dei protocolli di antifrastri sulle aziende energetiche, non servono sempre un valere. La sanzione finale dell'antifrastri sostanzialmente dice questo è il valere dell'autorità per l'energia, io con i miei poteri decido la sanzione. Se l'Europea, dove parliamo di una regolazione di regolatori energetici, da anni ci stiamo ponendo le tematiche trasversali dentro, sotto l'etichetta che si chiama P-I-P-I-R-P-I-R, che vuol dire Partnership for the Enforcement of Energy o Filonia Rice, dove per esempio con regolatori di altri settori, con associazioni dei consumatori, con altri soggettori, con organizzazioni di standardizzazione ci stiamo occupando di cyber security oppure di offerte bankers, cioè quelle crescenti offerte in cui vengono insieme l'energia elettrica e l'assicurazione quando c'è una grana non si capisce se la risolve l'autorità dell'energia o l'autorità della situazione. E quindi ci poniamo queste questioni perché altrimenti perdiamo il treno che non è una cosa vera. Ci proviamo. Grazie. Grazie. La domanda è proprio anticipata con le ultime battute perché la collaborazione con le altre autorità a questo punto anche a livello internazionale l'ha già spiegata ma era nei suggerimenti della ricerca. se volete un commento? No. Sono parlato della varietà delle nuove offerte che possiamo avere sul mercato ma secondo loro c'è la possibilità di arrivare anche nel mondo dell'energia offerte fatte perché è molto facile da scegliere anche per lo scopo del primo primo pronto a sfidarsi tutto quanto per l'altro per l'energia non fongo limiti alla provvidenza dell'energia nel senso si inventeranno le formole di prezzo che vogliono però francamente qui si vende una cosa che a loro costa allora flat inteso come prezzo piatto del consumo ontario il mercato è strappieno e sono 200 flat intese come qualunque siano i miei consumi io pago sempre 100 io non so se qualcuno le offrirà libertà di offerta ma naturalmente dietro è difficile la struttura di conti di presa non senta di governare questo tema però diciamo, il mercato è di più rischio il prezzo qui governa anche il comportamento di produzione di consumo in un momento nel quale stiamo raccontandoci che tutte le famiglie si giocheranno di batterie per staccarsi dalla rete e che faremo tutto un altro percorso questo è obiettivamente un argomento che è la flat del prezzo quello che non sia probabilmente la soluzione se non in caso di tecnologie profondamente rinnovate si interagiscono c'era due anni fa un film d'affetto sul mercato però a leggerla bene l'affetto non c'è più quello che stava pubblicare bene detto questo darei la parola a Andrea Camanzi una delle questioni che erano rimaste appunto nei temi di premessa è dato che ci sono questi grandi diciamo aggregatori di dati globali cinesi e americani è bello che cinesi e americani non più soltanto americani che ci sottolinea una realtà della quale qualche volta non teniamo molto a fronte di questi grandi aggregatori noi in Europa siamo dei frammentati abbiamo un sacco di medi aggregatori che tra loro non collaborano non mettono insieme le risorse dei dati nei trasporti questo qualche volta succede anche se è proprio il luogo nel quale la frammentazione si vede anche geograficamente c'è un attenziale che raccoglie i suoi dati e non li mette insieme con l'azienda dei trasporti locali si perdono delle opportunità operative per la città e sicuramente si perde anche il luogo di aggregazione di dati ci sono stati degli esperimenti a Milano in vista dell'Expo si è fatta interoperabilità dei dati tra tutti gli accoglitori i dati che gestiscono il traffico e le arterie e i sistemi pubblici eccetera e si è fatto per lo meno un inizio di principio di aggregatore dei dati questi dati sono necessari per il buon funzionamento del trasporto ma hanno anche la possibilità di diventare dati per ulteriori applicazioni in questo momento tutti si muovono sulla base dei dati raccolti da Google è possibile fare meglio o costruire un'alternativa incentivando l'interoperabilità della raccolta dei dati dei vari operatori e dei dati grazie grazie grazie